Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci torniamo alla chiesa di San Nicolò a Cercena di Lanciano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo sonare Veredi San Nove Punto. Di frattempo lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la menzana, di lanciare la piccola codicella. Adesso ascolteremo il battere sul campanone, poi me lo dirà Abbe Maria Di Vulde. Quindi a presto da Edoardo Campanano Mirotto e buon ascolto a tutti. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.